Ciao a tutti, oggi preparerò degli spaghetti con crema di zucca, pancetta e filadelfia. Andiamo a vedere come procedere in maniera molto veloce. Taglio un pezzettino di cipolla, taglio un pezzettino di peperoncino e qui come vedete mi sono già tagliato la zucca che vado arrivare in questo piatto. Accendo la fiamma, filo d'olio extravergine d'oliva, metto la cipolla, il peperoncino, vado ora ad aggiungere la zucca, abbasso la fiamma, aggiungo un mezzo bicchiere d'acqua e chiudo con il coperchio per una ventina di minuti. La zucca è cotta, la vado a mettere nel bicchiere del mini peemer per frullarla. Mettiamola da parte, nel frattempo metto la pasta, metto in padella la crema di zucca e ci metto la filadelfia a sciogliere. In un'altra padella metto ad abbrustolare la pancetta. scolato la pasta come il solito al dente e faccio insaporire in padella. Posso spegnere, aggiungo il parmigiano e ora la pancetta. A prima vista può sembrare una carbonara. in piatto. Passo all'assaggio. ragazzi sono squisiti, provare per credere! Buon appetito! Lasciate un like, condividete, commentate e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!